Buongiorno a tutti, siamo molto contenti di aver accettato l'invito a partecipare al Festival del Verde del Paesaggio. Il Comune di Camogli, con il suo territorio, è caratterizzato da una varietà di paesaggi. Paesaggi di natura antropica, quali i caratteristici terrazzamenti che insistono sul nostro versante colinare. La nostra spiaggia, anche questa di natura antropica perché è realizzata col materiale di scarto ricavato dallo scavo delle gallerie ferroviarie. E poi un bellissimo esempio, quale la Baia di San Fruttuoso, dove l'uomo ha realizzato un cappolavoro di architettura con l'Abbazia di San Fruttuoso. Abbiamo una serie di paesaggi naturali, rappresentati soprattutto sul promontorio di Portofino, che è un parco naturale regionale, che si protende a mare coniugandosi con l'area marina protetta di Portofino, anche questa caratterizzata da importante varietà di paesaggi marini.